Claudia Razzi, doppiatrice a Rimini per i capi da Voice Awards, quali sono stati i tuoi inizi in questo lavoro? Devo proprio dirlo perché sono inizi parecchio molti anni fa, mio papà lavorava in questo ambiente, io da ragazzino ho cominciato a frequentare le sale di doppiaggio, mi sono appassionata e ho iniziato con piccoli gangster di Alan Parker, feci il provino per il doppiaggio del film e vinsi il ruolo di protagonista e così lì è cominciato. Tu hai doppiato diverse attrici, tra cui Meg Ryan, c'è un lavoro a cui sei particolarmente legata? Sicuramente l'ultimo, Alice in Wonderland dove ho fatto la regina di Borg, che mi ha portato tantissimi riconoscimenti anche il premio quest'anno all'auditorium per il bellissimo doppiaggio, senz'altro questo film. Ringrazio e infine ti chiedo quali sono i tuoi progetti futuri? Lavorare, lavorare sempre tanto perché questo lavoro è meraviglioso, e non è prima però andarmene anche in vacanza. Ti ringrazio, ciao.